buongiorno e buon sabato 11 maggio a tutti buon pranzo mangiamo insalata verde che l'ho già lavata la devo tagliare condire spezzatino col sugo sarebbe lo spezzatone dei pezzettoni di muscolo spezzatino e poi ho fatto due orate al sale al forno che stanno qua nel forno ok due orate con ingrossa di sale grosso al cartoccio ci ho messo nella pancia aglio e rosmarino limone adesso mi mangio una bella orata con una bella insalatina buon pranzo a tutti e un bacione